Bella la palla recuperata a Bedini, palla per Iedioa che sotto canestro schiaccia! Ora consegna le palle, la palla a Savoldelli. Bello il passaggio sotto per De Ragnello, bel giro palla per Sodero! Da Giarelli, attacca Mazzoleni con la partecipazione di Leone, gran passaggio per Ivanai e Iedioa gli dice di no!